Queste sono le nuove palline che la Municipalizzata del Trasporto sta installando a Bari. Dopo mesi passati a subire le pressioni della stampa per il disastro generale in cui versa l'azienda, finalmente si vede la nuova strategia per rilanciare l'AMTAB a pezzi. La Municipalizzata ha deciso di puntare sull'immagine dell'azienda. Da un lato le nuove palline per gli orari, belle, di un brillante rosso acceso impossibili da non vedere. Dall'altro quelle vecchie, tristi, di un giallo sbiadito che poco si addicono a una società moderna e al passo che i tempi come l'AMTAB. Creando un intricato percorso a ostacoli per ora convivono. Speriamo che alla fine delle operazioni di installazione quelle vecchie siano rimosse e non abbandonate al loro destino.